Come giudicare questa partita al di là della sconfitta? Al di là della sconfitta siamo partiti abbastanza liberati. Sicuramente avevamo dato l'occasione per consolidare il vantaggio. Abbiamo fallita e poi l'episodio del gol preso alla fine del primo tempo ci ha fatto abbassare un po' la barba. Però per il resto dopo solo il secondo gol è stato infiato l'episodio. Quindi iniziamo direttamente la partita di domenica, mettendo la trasferta con il Divi Wolf non sarà sicuramente una passeggiata? No, assolutamente. Anzi, la partita di domenica è estremamente importante. Per me, come ho detto senza nessun tipo di problema, affrontando un po' la relazione del campionato. Anzi, c'è solo da fare dei complimenti per il percorso che hanno fatto fino ad adesso. Perché quando si cambia tanti giocatori, va bene, insomma, l'allenatore dell'anno scorso. Però cambiare tanti giocatori e avere subito comunque sia un'impronta di gioco sia importante. Sicuramente per me, senza problemi, per me sono in questo, diciamo, inizio di stagionare in relazione del campionato. Perché non solo sono fatto nello stesso gioco più o meno dell'anno scorso, ma sono anche molto più concreto. Quindi sicuramente affrontando una squadra sono in fiducia. Per quanto riguarda noi dovremmo sicuramente preparare al meglio, ma questo non mi preoccupo. e poi sono sicuramente al massimo a portare il mio confio tecnico.